Stato dalla Polizia della rinomata località turistica indonesiana Bali, il latitante di Indrangheta Antonio Strangio, il quarantenne scortato dal personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è giunto stamane all'aeroporto di Fiumicino. Il provvedimento a carico di Strangio rientra nell'operazione European Indrangheta Connection, eseguita dalla Polizia di Stato, dal Servizio Centrale Operativo e dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Legato all'omonima Indrangheta di San Luca e nota come Yankee, era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso nell'ambito dell'operazione denominata Eclissi 2, che aveva portato, lo ricordiamo, nel luglio del 2015 all'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a cosche di Indrangheta del Vibonese in provincia di Reggio Calabria, per legami col clan Bellocco. Allora Strangio si era reso latitante nel 2016, scappando in Australia, da dove, essendo stato naturalizzato cittadino australiano, non poteva essere estradato. Quella di Strangio è un'operazione che segue di poche ore la notizia rimbalzata su tutte le testate internazionali della cattura avvenuta a Saint-Etienne, in Francia, di Edgardo Greco, latitante da 17 anni, noto come chef dell'Andrangheta e condannato all'ergastolo per duplice omicidio. Con Strangio sono 42 latitanti arrestati in tutto il mondo in poco meno di tre anni, dall'avvio del progetto ICANN, che sta raccogliendo i risultati di un lavoro volto a far crescere nelle forze di polizia di 13 paesi, quelli, lo ricordiamo, più esposti alla minaccia, la consapevolezza della pericolosità globale dell'Andrangheta, che fino a poco tempo fa veniva considerato un fenomeno folcloristico italiano.